Si tratta di un questionario non solo italiano ma anche internazionale che permetterà un confronto con le altre realtà. Ci sono criticità che riguardano in particolare l'Italia? Grazie per la domanda. Un dato rilevante che emerge dal questionario è il fatto che tra il 50 e il 60% degli operatori sanitari pensano che episodi di questo genere siano comuni nel settore sanitario e perciò dobbiamo fronteggiare questo fenomeno affinché non sia più una cosa accettabile. Perciò questa accettazione sociale, questa tolleranza che c'è nei confronti della violenza non può più andare avanti e per questo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità cerchiamo di fare in modo di lavorare sulla consapevolezza dell'opinione pubblica affinché si possano prevenire questi episodi di violenza. Stiamo lavorando con molti paesi per dimostrare che quando c'è la collaborazione dei medi e di tanti altri settori si può prevenire la violenza nei luoghi di lavoro. iscritto di alcance. Grazie. Grazie a tutti.